Ciao a tutti e benvenuti all'isola di carta. Oggi volevo fare un video per farvi vedere quelli che sono stati i miei ultimi acquisti ma soprattutto i recuperi perché ho recuperato della roba veramente molto interessante e mi piaceva condividerla e farla vedere soltanto a voi. Allora cominciamo con gli acquisti in edicola. Primo acquisto Zagor, ecco qua, è il numero 734, questa è la saga fantasy scritta da Luigi Mignacco, quindi Luigi Mignacco va fortissimo perché oltre a Dylan Dog scrive anche su Zagor, quindi è molto impegnato in questo periodo. I disegni di Giuliano Piccinino sono davvero fantastici, vi faccio vedere qualche tavola perché meritano davvero nei loro dettagli e nella caratterizzazione plastica dei personaggi che è davvero strutturata in maniera molto realistica e quindi questa è la tipologia dei disegni che io adoro, che io amo. Guardate questo arco ogivale e quindi credo che questa saga fantasy, visto che io amo molto il fantasy, dovrebbe essere molto interessante. Mi dispiace solo che forse diventerà troppo lunga, adesso non so sinceramente fino a quando durerà, fatemelo sapere nei commenti se voi sapete qualcosa. Ecco, e quindi il primo acquisto, la compagnia degli audaci, Zagor numero 734, lo togliamo e facciamo vedere subito gli altri acquisti. Mi riferisco all'ultimo numero di Giulia, questa è una copertina fantastica, questo è il numero 285, gemme nel buio, io di Giulia ho praticamente tutta la collezione, quindi devo dire che ultimamente forse qualche storia è un po' scadente, però le copertine del grandissimo Cristiano Spadoni sono qualcosa di eccezionale. Questo è del giugno del 2022, il numero 285, il soggetto ovviamente di Giancarlo Berardi e Lorenzo Calza, i disegni di Paolo Di Pimenti. I disegni non sono niente male, anche questi sono molto dettagliati, quindi come dico spesso, il genere di disegni che io amo tantissimo. Faccio vedere altre tavole, non l'ho ancora letto, non so se farò una recensione, ho visto che qualche altro youtuber l'ha fatta, non la sento perché non voglio farmi condizionare. Ecco, e quindi questo è Giulia numero 285. Poi altro acquisto eccellente prima di passare ai grandi recuperi, altro acquisto è Dago. Di questo avevo fatto dei video nel vecchio canale, forse sarà il caso di rifarlo anche su questo. La copertina purtroppo non è più lucida, ma è abbastanza grezza, abbastanza opaca. Questa è una ristampa, il personaggio ovviamente è di Robin Wood, io di Robin Wood seguo anche Gilgamesh, di cui appunto trovate una recensione nel mio canale, questo è il numero 82 intitolato Oltre il destino. Mi piacciono molto questi redazionali, vi faccio vedere, attraversate pericolose, perché a livello storico contengono delle informazioni davvero molto molto interessanti. Vi faccio vedere i disegni, che sono i disegni quelli magari tipici di un po' di tempo fa, guardate questa che tavola. E Dago certamente è un fumetto molto impegnato, perlomeno forse non è un fumetto per tutti, nel senso che lo possono leggere tutti, però forse può risultare a livello storico, forse un pochino impegnativo, diciamo così. Però ecco, io lo trovo un prodotto molto interessante, perché se voi amate le storie di Robin Wood, certamente Dago non potete farvelo sfuggire. Allora, tra i recuperi andiamo subito a parlare del romanzo di Martin Misteri di Andrea Carlo Cappi. Questo contiene due romanzi e un racconto, il primo intitolato L'occhio sinistro di Rama, il secondo Il codice dell'Apocalisse. E l'ultimo è l'ultima risposta. Allora, devo dire che a me i romanzi di Cappi non li conoscevo, ho cominciato a leggere questo, mi sono piaciuti tantissimo e quindi vorrei leggere anche gli altri due e poi magari farne una recensione anche insieme a voi. Quindi qui non ci sono disegni, è appunto un romanzo, quindi è soltanto prosa. E comunque ecco, io pensavo che perdesse nei confronti di Martin Misteri, invece sono storie, o perlomeno quella che sto leggendo io, è davvero molto molto avvincente. Io sto leggendo il codice dell'Apocalisse. Questo è il primo recupero, vi faccio vedere gli altri. Ho recuperato due numeri di Volto Nascosto. Questo è di Manfredi, un fumetto di 14 numeri, è uscito credo nel 2017 mi sembra, una miniserie di 14 numeri. Volto Nascosto è un etiope che combatte per la resistenza dell'Etiopia. La storia riguarda fondamentalmente le colonie italiane in Etiopia, quindi siamo alla fine dell'Ottocento e primi del Novecento. È una storia fantastica. Io ho letto i primi due numeri, mi sono piaciuti moltissimo. Se qualcuno di voi ha letto Volto Nascosto me lo faccia sapere. Ecco, no, è dell'ottobre 2007, quindi non del 2017. Come dicevo, il soggetto è di Gianfranco Manfredi. La copertina è di Massimo Rotundo, quindi lo stesso autore dell'opera di Chiaverotti. Adesso mi sfugge, vi faccio vedere un tanto di disegni. Guardate che belli questi disegni. Volto Nascosto fantastico, davvero fantastico. Brandon, ecco, non mi veniva. Di Brandon, Massimo Rotundo disegnava su Brandon, guardate che tavole. E quindi, Volto Nascosto, io lo consiglio a chi ama queste graphic novel storiche, però intrise anche di avventura, esotismo. Volto Nascosto, recuperatelo perché ne vale davvero la pena. Poi, altri recuperi eccellenti. Sempre di Robin Hood, questa raccolta, che è Martin Hell. Questo è un personaggio che io vorrei approfondire di più, perché le storie sono molto interessanti. Qui ne ho letta qualcuna, una. Visto che è di Robin Hood, si tratta, si va praticamente a scatola chiusa. E quindi questo è un personaggio gotico. Diciamo, le storie appunto sono molto oniriche, molto gotiche. Quindi, se amate il genere fantastico, acquistate Martin Hell. Questa è una raccolta. Non l'ho presa da collezione, ma è da lettura. E quindi, ok. Poi, altro recupero eccellente. Il numero uno del Maxi Martin Misteri. Questo è un malloppone che è uscito un bel po' di tempo fa. Precisamente nel 2004. Contiene due storie. Gli uomini rettile, con una specie di Jurassic Park. Una storia alla Jurassic Park. Il soggetto alla sceneggiatura è di Stefano Vietti. Mentre la macchina del tempo è di Lucio Luca Galoppo. I disegni di Paolo Ongaro. La copertina, ovviamente, non poteva essere quella di Alessandrini. Guardate che bella. E quindi questo Maxi Martin Misteri a me sta piacendo molto. Ho letto la prima storia. La sto finendo. Poi magari potremo anche farne un video insieme. Faccio vedere qualche altra tavola. I disegni di Ongaro. Niente male. E questo quindi è stato un altro bellissimo recupero. Poi, altri recuperi. Questo, più che un recupero, è ancora in edicola. Però io l'ho recuperato nel senso che era uscito un bel po' di tempo fa. Ed è riguardo ai grandi maestri della Istorieta. La Istorieta, per chi non lo sapesse, riguarda il fumetto argentino. Quindi, Carlo Striglio e Rick Breccia, se amate le storie al tipo Eternauta, e quindi alla Robin Hood, eccetera, acquistate questo Alvar Mayor perché è davvero fantastico. Sembra di leggere delle storie brevi, tipo i racconti brevi di Dino Buzzati. Intanto vi faccio vedere anche i disegni. Sono degli schizzi, degli acquerelli molto interessanti. molto onirici, alla Borges anche, per intenderci. Ecco, guardate che disegni. E io dovrò recuperare anche gli altri due numeri perché non li ho presi. Questo è il numero 4. E' uscito il 3, il 2, poi è uscito il 1, ma non è appunto di Carlo Striglio. Guardate che belli questi disegni. Poi, altri recuperi, questi un po' vecchiotti, sono due numeri del Comandante Mark, La Strega Nera e Mark Deve Morire, numero 144 e numero 148. Il Comandante Mark è un personaggio che a me affascina molto, mi ricorda veramente la mia giovinezza perché io da giovane appunto l'ho acquistato. Li sto recuperando piano piano, adesso non dico tutti, però qualcuno lì, cerco di recuperarmi il più possibile. Farò anche dei video sul Comandante Mark perché non ne ho fatti mai nessuno e quindi mi piacerebbero farlo conoscere soprattutto alle giovani generazioni. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi saluto da L'Isola di Carta, ciao a tutti, ciao da Massimo.